La procedura informatica della motorizzazione civile prevede il rilascio di un tagliando che fa riferimento ad una patente virtuale. Giocando su questo fatto, queste persone di nazionalità bulgare hanno sfruttato proprio questo tallone di Achille, ottenendo fraudolentemente 24 patenti italiane convertite da false patenti bulgare. La particolarità sta nel fatto che queste patenti sono tutte patenti da professionisti, quindi patenti che abilitano alla guida di mezzi pesanti, autotreni, autoarticolati. In due casi queste persone sono state assunte da ditte di autotrasporto per la conduzione di questi mezzi pesanti. Abbiamo eseguito diverse perquisizioni in tutta la Romagna, a Cesena, a Forlì, a Ravenna e anche in Toscana, precisamente nella provincia di Siena, dove un filone dell'indagine portava in quella città. Sono tuttora in corso indagini, stiamo controllando due agenzie di pratiche auto di Rimini, perché tutte queste conversioni di patenti passavano attraverso queste due agenzie di Rimini. Abbiamo sequestrato tutti i fascicoli alla motorizzazione, la quale motorizzazione sta collaborando con noi in questa indagine, quindi abbiamo cercato di rimediare a questa falla del sistema, non voluta, un procedimento burocratico ineccepibile che purtroppo queste persone maleintenzionate hanno sfruttato, ma adesso il sistema è perfettamente efficiente e funzionale. Un procedimento che riguardava solo i comunitari, insomma, chi appartiene alla comunità europea? Sì, perché per il comunitario ha una procedura più semplificata rispetto ad uno straniero, soprattutto dove la patente viene o convertita o riconosciuta. Sfruttando questi due meccanismi che poi portano allo stesso risultato, riuscivano ad ottenere delle genuine patenti italiane, ma ottenute attraverso patenti bulgare false. Sì, sono patenti che anche ad un occhio esperto non presentavano anomalie, le anomalie venivano riscontrate solo successivamente attraverso strumentazione scientifica di cui siamo dotati. Tenete presente che poi a Rimini c'è uno dei più esperti a livello nazionale in materia di falso documentale, che è l'ispettore Capo Chianca, che dirige la squadra di Polizia giudiziaria. Due di queste, ha detto, lavoravano nel settore autotrasporti con queste patenti ottenute in maniera fraudolenta. Avrebbero potuto anche condurre autobus con ragazzini, quindi è un rischio? Certo, perché oltre alla patente riuscivano ad ottenere anche il CQC, che è il certificato di qualificazione del conducente. Addirittura in alcuni casi, ottenuta la patente italiana genuina, si sono recati in Bulgaria per ottenere il CQC bulgaro e quindi poter condurre anche autobus con passeggeri. È un'indagine che nasce a Rimini ma che può essere proiettata su tutto il territorio nazionale. In questo senso ci siamo già attivati anche attraverso altre sezioni di Polizia Stradale che stanno verificando in ogni singola provincia le conversioni di patenti bulgare.